Ma se vi dicessi che questa macchina costa meno di 40.000 euro, voi cosa mi rispondereste? Beh, oggi vi racconto di GQ7. Vi faccio dare un'occhiata veloce e, vabbè, forse ve l'avrò scritto nel titolo, però vorrei sapere da voi quanto potrebbe costare una macchina di questo genere. Avete risposto? Beh, ve lo dico io. In teoria tra i 35 e i 40.000 euro non sono stati ancora annunciati i prezzi, però ve la faccio vedere adesso più nel dettaglio. La seconda vettura del gruppo Ceri ad arrivare in Italia. Infatti, GQ non l'avrete ovviamente mai sentita, però questo è il secondo SUV dopo la versione termica che abbiamo visto qualche settimana fa di una moda 5. Lei è elettrica, di cui parliamo dopo, però lei è GQ7, un SUV da 4,50 metri a 4 volte motrici con circa 150 cavalli di potenza. È una macchina che, all'apparenza, non è, secondo me, per niente male. Ha un design molto squadrato, molto lineare, con fari full LED sia al posteriore. Qui sotto abbiamo degli scarichi purtroppo finti, che però, vabbè, poco poco male. Non fate caso ai cerchi. Nel nostro mercato saranno dei cerchi di 19 diversi da questi. Questa è un'anteprima di una vettura di preproduzione. Quindi, non fate caso ad alcuni dettagli che non sono ancora definitivi. La parte frontale, caratterizzata da questo griglione veramente molto importante, sotto il cofano. Un motore 1.6 turbo benzina, abbinato ad un cambio a 7 marce a doppia frizione. Proiettori completamente LED con la luce diurna e la freccia. In questa parte superiore, il taglio laterale. I cerchi saranno di un pollice più grande, saranno dei cerchi da 19 pollici. Abbiamo poi questi specchietti anche di abbastanza importanti dimensioni e le maniglie che rientrano. Poi vi faccio vedere come ci si sta dentro, perché anche questa è una sorpresa. Vi faccio rivedere la parte posteriore con un bagagliaio elettroattuato di 412 litri, che possono arrivare fino a 1.330 se si vanno ad abbattere i sedili. Qui sotto abbiamo la ruota di scorta a dimensione originale, cosa che ormai non si vede praticamente più nel mercato, però è sicuramente molto, molto comoda. Gioco di parole, comoda, lasciamo perdere. Vado dentro per farvi vedere come ci si sta e vi dico che ci si sta veramente molto bene. Considerate che il sedile anteriore è impostato più o meno sulla mia altezza, comunque ci sto abbastanza comodamente nel sedile anteriore e c'è veramente tanto spazio, circa 4 dita per le gambe, 3-4 dita fate conto, e un bel po' di spazio anche per la testa. Molto probabilmente arriverà una versione anche con un tetto panoramico, che qui non abbiamo, qui dietro la bocchetta dell'aria e un portaoggetti con anche delle prese USB di tipo A e di tipo C. Comunque veramente tanto spazio. Mi piace molto anche questo filetto di illuminazione lounge nella porta posteriore, dove ci sono anche delle ottime finiture e anche sentite lo slang della porta, lo faccio risentire, è molto solido. Si vede che è una macchina costruita in maniera concreta. Il pannello porta anteriore, anche qui con delle ottime finiture, manca la bocchettina qui nel portoggetti, però ci sono tutta una buona serie di materiali, qui dove si appoggia il gomito morbido, qui sopra morbido, tanti materiali appunto anche le classiche vitone da fuoristrada, che vabbè sono discutibili. Ecco il sedile era leggermente più avanti rispetto alla mia posizione, però comunque qui davanti ci sto. Vi faccio vedere anche il design della plancia con il logo GQQ, dei tasti soft touch molto simili a quelli delle Volvo, per farvi capire come concetto. Purtroppo adesso la macchina, vediamo se si accende. Il display del cruscotto anteriore con un bel design, con tante informazioni però tutte abbastanza chiare ovviamente, il display è personalizzabile, questa appunto è una preproduzione, quindi non possiamo andare a toccare grandi cose. Il display qui disposto in verticale da 14 pollici, con l'assistente vocale, CarPlay e Android Auto Wireless, il sistema di navigazione. E vi parlo di un sistema abbastanza veloce e reattivo, qui tutta una serie di impostazioni con gli assistenti alla guida, che sono di livello 2 avanzato, quindi sono veramente molto completi. Poi quando andremo a provarla, vi racconterò come vanno un sacco di impostazioni, il Bluetooth, l'illuminazione lounge, il comfort del veicolo, insomma, il sistema di infotainment. Lo trovo molto veloce e molto reattivo appunto, qui c'è anche tutta l'impostazione della climatizzazione, tutta basata sul sistema touch, e poi anche le impostazioni della radio. E vi parlo poi del resto della plancia. La carica wireless a 50 watt ventilata, che speriamo funzioni, perché c'è una vera e propria ventolina per raffreddare i bollenti spiriti di una carica wireless appunto a 50 watt, e qua sotto tutta una buona dose di spazi per riporre degli oggetti. Ovviamente qui abbiamo il cassettino e anche qui abbiamo il cassetto progetti, il portaoggetti anche sotto qui, refrigerato, quindi cosa non da poco. Qui c'è una cosa secondo me molto simpatica, perché è il box per i fazzoletti. Non so se arriverà anche nella versione per l'Europa, però è una cosa particolare che non avevo mai visto e che secondo me ha anche senso, perché io li userai tantissimo. Però vabbè, è una chicca, non lo so. Finiture e materiali veramente, veramente molto, molto buoni. La cosa però, secondo me, più interessante di questa JQ è il fatto che ha un prezzo che oscirà tra i 35 e i 40 mila euro, che per una vettura di queste dimensioni e con questo livello di finiture non sono per niente, per niente male. Arriverà anche in seguito una versione ibrida plug-in, quindi con una batteria da circa una ventina di kilowattora, però ancora questi dati non sono stati dichiarati. Vi parlo anche velocemente della Omoda 5, dove troviamo un cerchio dedicato. Il design è sostanzialmente quello. Questa è la Omoda E5, nella realtà dei fatti, perché appunto è la versione 100% elettrica, di cui già vi avevo parlato nell'anteprima della termica. batteria da 61 kilowattora, cerchi specifici e un design della versione termica. La cosa che cambia sostanzialmente all'interno è l'assenza della leva del cambio nel tunnel centrale, dove viene creato un bel po' di spazio in più per tutti gli oggetti, anche qui la carica wireless, però c'è stato detto che nella versione definitiva della Omoda 5, anche termica, il leveraggio del cambio verrà posizionato nel devioluce dietro al volante. Davanti c'è la presa di ricarica, non sono state ancora dichiarate le potenze di ricarica, si parla tra gli 80 e i 110 kilowatt di potenza di ricarica in DC e ovviamente 11 in AC. Quello che cambia sostanzialmente a livello di design è la parte frontale dove viene chiusa la griglia anteriore e viene appunto posizionata la presa di ricarica. Qui anche prezzi attorno ai 35.000 euro. Il gruppo Sherry sta arrivando in Europa non con il suo marchio, ma con questi marchi appunto specifici per queste due vetture che saranno le prime due ad arrivare in Italia, però abbiamo già 40 concessionari di grossi gruppi e di grosse realtà che hanno già creduto alla storia di questo brand che sta appunto sbarcando in Europa con due prodotti, anzi tre prodotti, perché c'è anche la benzina, secondo me molto interessanti, soprattutto per il loro punto prezzo. Sarà da capire se arriveranno delle versioni a GPL per le termiche, sarà da capire come si guideranno, però già vedere dei prodotti molto interessanti e tra l'altro soprattutto costruiti bene. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo Moda 5 elettrica e di questa GQ7 e direi che ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!